Il Natale è un invito forte per me, che sento anche così da rivolgere ai giovani, che ecco, di ricercare quella presenza che portano nel cuore, che portiamo nel cuore, che è la presenza di Dio, perché abita dentro di noi Dio. Questo grazie al mistero del Natale. Certo, sembra che non ci sia posto dentro di noi, perché abbiamo tanti pensieri, tanti desideri, tante cose che ci attraggono. Attorno, perché prevale o il luccicore del consumismo, che ci distrae e ci disperde, o il buio delle circostanze. Ecco, però questa presenza c'è e se si scopre questa presenza si abita il presente nella speranza, sì, nella speranza.